Ragazzi commentate il prossimo episodio quanti gol e quanti assist fare Come amici noi siamo due bomber freestyle Bomberissimi direttamente già sudati Ma non vi diciamo niente perchè quest'oggi i due bomber in un nuovo video faranno i difensori Tanta roba ragazzi si torna agli origini Ma io direi per questo episodio raggiungiamo subito i 10.000 like per vedere il prossimo episodio da centrocampisti E attenzione sarò curioso di vedere se i difensori due bomber Riusciremo a dare la vittoria alle fc bombe Questa è... Commentate qua sotto ragazzi vinceremo oppure no ma io direi non perderci in chiacchiere e partire subito con il video Andiamo bombers gran partita go 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 Sono da sudato Anch'io 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 bel Grazie a tutti. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.